Sai come sono fatto? Agisco di stile. Anch'io! Jane, Holly e Zoe alla conquista di New York. Anzi, mi chiedevo se avete mai pensato a incontri mensili per genitori single. Alla conquista. E basta. Quell'uomo non fa per lei. Bisogna che scriva una lettera. Chi? Per il ciclo Love Education. Intelligente, arguto, romantico. The Perfect Man. È come se mi conoscesse da sempre. Mercoledì in prima serata, sulla 5. Grazie a tutti.